Che facciamo Sina? Dai andiamo a comprare qualcosa su per me Non è caso, io mi sono scocciato di strecco Non sai com'è sto io? Mi trovo il topolo della gamba E non mi... e non mi... e non mi sono pistole E dai Sina E però non te sono anche molto raffreddato E dai Sina Fai qualcosa da solo Ma che posso fare? Che posso fare? Ah che buono Eh? Ma certo Posso... posso andare a caccia Che ne decidi andare a caccia? Ti ho detto che io non ci vengo Ma io lo so E va bene siamo adesso Andiamo Ecco Aspetta Sino, aspetta Sino, aspetta Sino, aspetta Sino Non si sta capiamo Sino Ne vuole un po' Ne vuole un po' No Che buono Oh, ma che è? Che è? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah No, no, no Oh, mannaggia No, 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 aiuto Sena No, no, non prendi Non puoi scherzi, dai, lasciami Sena, ma questo Aiuto, aiuto Fatti sotto Non ho paura di te Lurdo mangia pesce Ah, ah, ah Ah, ah, il cono, il cono Non levami Ti prendo, Sena, aiutami Ah, ma la voce, Sena, che buono Ah, ah, aiuto Aiuto Aiuto, aiuto, aiuto Oh Oh, lascialo stare Lascialo stare, capito? Ah, ah, ah Ah, sei tornato Ah, ah Ti è tornato tu Tu non li farai mai del male Capito? È arrivato l'eroino È arrivato l'eroino Non mi fermerà Stanne certo Tu devi Becchia di questo Ah, 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 ah Ah Oh Oh Però adesso l'ho venuto, ragazzi State all'erta Ah Eh, grazie Sì Eh, scusa Questo chi è? Eh, no Lui, sì Non si sente un po' male Quindi Meglio solo lo disturbiamo Ah, eh, va bene Cioè Tu me ne chiami Beh, io sono Dino Eh, grazie ancora Però io mi chiamo Kark Divertiamo amici? Beh, sì Eh, quindi Niente Che facciamo? Che facciamo? Eh, io non so che fare Ok Ah, ricordati Aspetta un attimo Ma Questa l'altra Eh Dei sapere che lui è un È un Spirosa Com'è? Spirosa Ma Eh, che è un Spirosa Eh, ce li hai presenti Quelli, non so La che hanno quella Cosa sopra La schiena Il muso un po' Arrotondato Insomma, hai capito Quelli che mangiano Sì, è tipo quello Che mi ha attaccato Sì, tipo quello Quello è quello Si chiama Spirosa Sì E tu che arrotta sei? Eh, io non lo so Ma come no? Lo sai? Eh, sì Cioè Io Non lo so Non lo so Nemmeno io Non lo so Sì, non è che ci c'è Per te va bene ospitare Questo nostro amico Carche A casa nostra In fondo C'è Tua la vita Dai Ospitiamo Ma voglio ciò che vi fa Ah, la mia cò Da Ma sì, no Ma sei proprio Proste Ma fate ciò che vi fare Cioè Mi lasciate così Non voglio Lirà a casa No Voglio stare qui da un solo Vabbè Lo scus Cioè Scusalo E che lui In questo periodo Un po' Insomma Così Capito Ah, non c'è problema Andiamo a casa mia Andiamo a casa tua Scusalo Sono sbagliato Allora No No